ci sono due pulci una è sfaticata in una voglia di fare niente invece l'altra lavora tutto il giorno non si distrae in una hobby e non fa altro che lavorare la prima chiede alla seconda ma cosa ci farai con tutti questi soldi ah voglio iniziare a girare il mondo così un giorno la seconda pulce è arrivata a mettere da parte ben 500 euro e lo dice alla prima che le chiede ed ora quindi inizierai a girare il mondo sì e come pensi di fare per prima cosa mi compro un cane ciao